Incastrate grazie alle immagini del sistema di video sorveglianza due sorelle di 55 e 31 anni sono state riconosciute dagli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Vicenza come le autrici del furto in un negozio di giocattoli in città. Le due donne a dicembre del 2019 avevano sottratto merce per circa 315 euro. Entrambe italiane residenti in città dovranno rispondere del reato di furto aggravato in concorso. Grazie a tutti.